Ben ritrovati a tutti da Stefania Cattaneo di Trebi Meteo, diamo insieme uno sguardo a come andrà la nuova settimana dal punto di vista meteo, almeno nella prima parte instabilità al centro-sud e sulle isole maggiori. Sulla Sardegna, sui versanti ionici Calabria e Sicilia c'è anche il rischio di fenomeni intensi, il tutto in un contesto termico meno freddo rispetto a questi giorni. La neve sull'Appennino centrale mediamente cadrà sui 1000-1400 metri, aggravando la possibilità di valanghe sul versante adriatico della dorsale appenninica. In tutto questo diciamo che lunedì il rischio di nubi fragili sarà alto tra Sicilia orientale e Calabria ionica verso la Basilicata con possibili allagamenti. Resta ancora fuori dai giochi il nord perché è troppo forte e invadente l'alta pressione sull'Europa centrale, quindi alla meglio avremo qualche sporadico fenomeno a sud del Po. Per il momento è tutto, restate aggiornati sull'App di Trebi Meteo.